Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. In A1 oggi, in orario 9.19, sarà chiuso il tratto tra il bivio con la variante di Varico Baccheraia e Pian del Voglio in direzione Bologna. Contestualmente, sarà chiuso lo svincolo di Roncobilaccio in uscita provenendo da Roma e in entrata verso Bologna e sarà chiuso l'uscita di Pian del Voglio provenendo da Roma. Sulla variante di Varico, stanotte, in orario 22.6, sarà chiuso l'uscita di Badia sia per chi proviene da Bologna che per chi proviene da Roma. Sempre stanotte, in orario 22.6, sulla A1, chiuso lo svincolo di Incisa Reggello in entrata in direzione Roma. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!